Inzaghi ha certamente un bellissimo rapporto con il gruppo, naturalmente abbiamo avuto visioni diversificate in tante occasioni e quindi comunque è un discorso che faremo al momento opportuno. Riuscirà a conciliare le trattative con l'entrata in mercato importante? È un problema che stiamo vedendo come risolvere anche magari con qualche finanziamento. E poi riguardo all'allenatore, nel caso che inzaghi non venga confermato preferisce una figura l'Ancelotti, cioè gestore, una figura forte dal carattere per entrare come un vomer nel mio? Vediamo, bisogna parlare di nomi concreti e stiamo proprio esaminando che è il da farsi. Emeri? Non mi faccio dire nulla perché siamo ancora in limine.